ciao papà non abbiamo niente non abbiamo niente abbiamo i pigi mask vai a vedere i personaggi ninja gecko romeo come si chiama l'etta abbiamo le loro macchine ci sono le macchine dobbiamo i trasporti di gecko guarda che si può sedere anche l'uffezza dietro guarda che c'è il posto rosso e ci sta si giunta la luffezza e tu sei troppo grosso non ci stai no lì è il posto di gatto voi non c'è no mamma non c'è bene non ce l'abbiamo e vediamo adesso pupetta e gecko wow guardate qui ha rubato la macchina di gecko al ladro 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 è romeo la macchina di romeo non volo mamma ma te non volo no io non volo come superman come superman si iscrivetevi guardate altri video ciao 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 si apre vai a vedere di qua come si apre qua si apre le nuove si apre guarda si apre tutto si apre fiore, piante diante lo vedi 9 water non lo ho visto no qual è la febvia si apre si chiuse e diventa una casetta si apre si apre si apre eccolo seduto a bere seduti a bere si si vediamo guarda si 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 no no era qua e adesso cambiamo il gioco no? ti piace questo guarda si 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 Quanti suoni che fa questa macchina Paw Patrol Ok vado a casa io Ciao cucciolo Ma io ci sto in questa casa? Andiamo Mamma mia è grande quella casa Mi posso solo sdraiare così per terra Non cattivo Cattivo E io ti mangio Amm Amm Quella è migliore Non mi ha scritto Iscrivetevi e guardate altri video Ciao Ciao